Un problema che si ripropone puntualmente ad ogni stagione estiva, quello che affligge i residenti di Via del Moletto, che puntano il dito verso una mancata pulizia della massicciata a ridosso della ferrovia, infestata non solo dalle erbacce crescenti, con seri problemi di igiene, ma anche da animali poco graditi che vi transitano indisturbati anche in pieno giorno. La buona volontà di alcuni di loro aveva sopperito in passato alla carenza di interventi pubblici, ma ora che questo senso civico è stato messo a dura prova, il risultato è, come ci dice uno di loro, che ora la sporcizia e l'incuria regnano, oltre ai problemi di vivibilità serale dovuta ai decibel della musica di alcuni locali e dal transito in condizioni di scarsa sobrietà di alcuni frequentatori in tarde ore della nottata, come testimoniano ampiamente le tracce che lasciano al loro passaggio. I problemi di questa strada sono pulizia, dell'immondizia, dell'erba, poi anche il rumore notturno che da giovedì sera, giovedì, venerdì e sabato non si dorme assolutamente, poi quando la musica, poi quando tornano i ragazzi e gente ubriaca che fanno di tutto, mi suonano anche il campanello di casa, quando è alle due e mezza, alle tre di notte, solo di là tutto quanto, puliscono anche il pezzettino di carta che trovo nella spiaggia, operatori dell'ASE non privati, mentre qua, fino all'anno scorso, tutte le mattine alle 5 io mi alzavo per pulire la strada, era bella pulita, c'è chi si congratulava perché diceva che la strada era pulita e c'è chi rideva dietro. Siccome quest'anno ho deciso di non farlo più, pulisco solo davanti a casa mia, quel pezzettino e basta. Ecco queste sono le condizioni dove, come si trova la strada adesso che non la pulisco più. E la sbarra anche, la sbarra è un altro punto critico di questa strada. Quella deve essere chiusa 24 ore su 24, certo le comande hanno la chiave, solo per operatori turistici carico e scarico ad mirci per la spiaggia, questa è sempre aperta, è pericoloso perché vanno giù le macchine e non vanno giù piano, vengono giù biciclette o a piedi il gente e prima o poi succede qualcosa di brutto, succede. E come vedete anche in questo momento sono più o meno le 11 e mezza di mattina, la sbarra è aperta ed è così il passaggio utilizzabile da chiunque, sia con mezzi leggeri e che con mezzi pesanti perché non trova la sbarra chiusa che dovrebbe impedire a chiunque di accedere in questa zona. E tra l'altro ricordiamo, poco più in là c'è il cartello che lo dice ben chiaramente è anche un passaggio utilizzato e utilizzabile dalle ambulanze in caso di pericolo e in caso di soccorso naturalmente. E quindi adesso chiede un po' di attenzione e di cura di questa zona? Un po' di cura perché anche noi, loro hanno diritto di divertirsi, ma noi abbiamo diritto di vivere un po' più tranquillamente. Vorrei vedere tre giorni alla settimana per tutta l'estate non poter dormire cinque minuti di no, da mezzanotte alle cinque del mattino non poter dormire per nessun motivo. Vorrei vedere chi è che resiste.